Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra letrina dell'auto per proseguire insieme a Seat Italia questo percorso che ci porterà verso grandi offerte. Accanto a me il responsabile marketing di Seat Italia, Stefano Sordelli, che saluto. Ciao! Ciao Rosi, un benvenuto anche da parte mia. Oggi ho il piacere di essere qui con voi per rappresentare i concessionari Seat di Piemonte e Lombardia. E parlando di concessionari Seat parliamo di una rete di grandi professionisti in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze a livello di mobilità. Quindi parliamo di vetture nuove, di vetture usate, passando ovviamente per l'assistenza. I concessionari Seat sono in grado di offrirvi in qualunque momento la possibilità di provare le nostre vetture. È una cosa che ricordo sempre, il test drive è importantissimo. Quindi quando entrate in un concessionario, anche solo per chiedere un preventivo, ricordatevi di richiedere il test drive. Andando a provare una vettura, anche solo per 5 minuti una vettura Seat, riuscirete a capire quella che è la qualità e la tecnologia presente nelle nostre vetture. Anche perché parlando di Seat parliamo di gruppo Volkswagen. Quindi parliamo delle innovazioni tecnologiche di uno dei gruppi più importanti nel panorama dell'auto. Che vuole dire, vuole dire motori TSI a benzina a inizione diretta, vuole dire motori common rail di ultima generazione. Parliamo di cambio DSG, quindi un cambio semi-automatico sequenziale. Parliamo di motorizzazioni B-Fuel, benzina e turbodiesel. Parliamo di trazione 4x4, quindi il meglio che oggi si possa avere a livello di tecnologia nel panorama auto. Prima di andare a presentare quelle che sono le vetture che compongono la gamma Seat, Rosi, direi di andare insieme a vedere che cosa hanno predisposto a livello di offerte promozionali i concessionari Seat di Piemonte e Lombardia per tutti i clienti nel mese di settembre. Mi sembra importante. Intanto iniziamo col dire che sul mese di settembre offrono prezzi bloccati, quindi molto importante. Soprattutto poi, come secondo punto, due anni di estensione di garanzia, quindi parliamo di Seat Warrant Extension, il che vuol dire che oltre ai due anni che noi offremmo di legge ce ne sono due aggiuntivi. Quindi quattro anni per vivere senza pensieri la propria auto. Perfetto. E qualche proposta finanziaria, visto che questo mi sembra molto importante da sottolineare. E' il terzo punto. Altro punto molto importante. Quindi formule finanziarie adatte ad ogni tipo di esigenza. Parliamo di finanziamenti in 36, 48, 60, 72 mesi. Formule finanziarie in alcuni casi molto particolari, quindi esclusive. Per esempio acquistando l'auto a settembre potete iniziare a pagarla dal 2012. Quindi comunque sia una grande convenienza e soprattutto, ripeto, adatte ad ogni tipo di esigenza. Perfetto. Hai dato dei numeri per quanto riguarda le rate. Insomma, sicuramente i numeri giusti li troverete qui nelle concessionarie Seat di Piemonte e Lombardia. Andiamo a vedere le proposte? Assolutamente sì. E parlando di offerte rivolte alla gamma Seat, non possiamo che iniziare da Ibiza, il best seller di Casa Seat. L'auto che fa più volumi per noi in Italia. Oggi Ibiza non è più solo una vettura, ma sono tre vetture. Ripeto, un'intera gamma. L'abbiamo qui, tutte alle nostre spalle. Ibiza oggi è una vettura a tre porte, che chiamiamo Sport Coupé. Cinque porte e la nuova Ibiza Station Wagon. Oggi i concessionari di Piemonte e Lombardia hanno per noi, sulla gamma Ibiza, due offerte irrinunciabili. Sì, intanto Ibiza viene offerta oggi a 9.950 euro, completa di aria condizionata, radio, fendinebbia, cruise control e SP. Prezzo straordinario. Prezzo straordinario, con un'auto già completa di tutto ciò che serve. Questa vettura, ovviamente, ricordo ancora una volta, viene offerta a settembre a questo prezzo, con in più in aggiunta i due anni di estensione di garanzia e in più con una formula finanziaria che consente di, acquistandola oggi, pagare dal 2012. Quindi, un'offerta a pacchetto, a mio modo di vedere, irrinunciabile. D'accogliere al volo, assolutamente. Però, le offerte non finiscono qui, perché se abbiamo visto che questo tipo di vettura, così ben equipaggiata, viene offerta a questo prezzo, per coloro che vogliono un'auto ancora più equipaggiata, abbiamo la versione Coppa. La versione Coppa è una versione speciale che abbiamo lanciato quest'anno e che consente, come dire, di avere allo stesso prezzo della normale gamma quegli equipaggiamenti extra che, per molte persone, oggi sono importanti, quasi irrinunciabili. Parliamo di cerchi in lega, di navigatore satellitare, parliamo di climatizzatore automatico. Quindi, sulla gamma, invece, di Coppa, Ibiza, in questo caso riusciamo ad avere 2500 euro di risparmio, senza rinunciare agli optional extra, come appunto navigatore, cerchi in lega e climatizzatore automatico. Quindi, due offerte per due clientele diverse, in modo da poter soddisfare ogni tipo di esigenza. E questo solo per quanto riguarda Ibiza. Però direi che, prima di passare al resto della gamma, potremmo andare ad approfondire qualche particolare delle vetture della gamma Ibiza. Assolutamente, e inviterei anche tutti i nostri amici a rivolgersi presso le concessionarie di Piemonte e Lombardia a SEAT per avere ancora maggiori dettagli su queste offerte che mi sembrano davvero molto, molto interessanti, sia una sia l'altra. Quindi andate a chiedere dettagli. Lo spot che è appena andato in onda ci ha dato modo di scoprire quelle che sono le caratteristiche dell'offerta che abbiamo su Ibiza Coppa. Ibiza Coppa che è offerta in versione tre porte, in versione cinque porte ed anche in versione station wagon, come quella che è qui al mio fianco. E, Rosy, devo dire che su quest'auto io ti vedo veramente bene. Ma assolutamente sì, anche perché, guarda, a me piacciono le vetture sportive, ma comode. Questo è un ottimo compromesso, direi. Assolutamente sì e soprattutto è importante ricordare che quest'auto ha una capacità di carico veramente rilevante, oltre 430 litri di bagagliaio ed è un'auto adatta per coloro che hanno bisogno di spazio interno, ma ovviamente non vogliono rinunciare ad avere una vettura agile e compatta. Quindi, adattissimo a questo tipo di vettura, tanto per comunque le strade urbane come per le strade extraurbane. Anche perché comunque sia parliamo di un'Ibiza che viene offerta con motori dal 1.270 cavalli fino al 1.6 common rail da 90 cavalli. Quindi una gamma realmente ampia, adatta ad ogni tipo di esigenza. Bene, andate a provarla. Assolutamente sì e ricordatevi il test drive. E parliamo ora di Leon, un vero e proprio must per Seat, una vettura dall'aspetto dinamico, 5 porte, anche se non si direbbe. Infatti è grintosa. Assolutamente grintosa, una vettura adatta a qualunque tipo di viaggio, soprattutto una vettura che oggi i concessionari di Piemonte e Lombardia offrono già promozionata a partire da 12.890 euro. Parliamo sì di un entry gamma, però già completo, di aria condizionata e radio. Quindi un'auto realmente completa di ciò che serve. Ovviamente come per Ibiza, anche per Leon, però, per coloro che vogliono un'auto ancora più equipaggiata, abbiamo una versione Copa, come quella che c'è qui di fianco a noi. È questa e questa vettura è già completa di tutto. Quello che voi vedete qui, quindi cerchi in lega, navigatore satellitare, radio, comandi al volante, fendi nebbia, tutto compreso, viene offerto dai concessionari Seat con un vantaggio di oltre 3.300 euro di vantaggio. La particolarità di questa vettura, della gamma Copa, è che viene proposta allo stesso prezzo della gamma normale. Per cui tutto ciò di cui parlavo prima, il navigatore, i cerchi in lega, il sensore pioggia, sono offerti in omaggio ai clienti. Quindi un'offerta straordinaria da cogliere al volo. Questo, ripeto, riguarda la gamma Copa. Perfetto, e riguarda naturalmente solo questo mese, per cui approfittatene assolutamente. Assolutamente, fino al 30 di settembre. E vi ricordo ancora una volta che fino al 30 di settembre, su tutte le vetture Seat, e quindi anche su questa Leon Copa, i concessionari di Piemonte e Lombardia vi offrono prezzi bloccati, due anni di garanzia aggiuntiva e qualunque tipo di formula finanziaria, quindi adatta ad ogni tipo di esigenza. Nello specifico, in questo momento, a mio modo di vedere, molto interessante, è la formula che consente di acquistare a settembre e di pagare a partire dal 2012. Quindi approfittatene. E concludiamo a questo punto con una carrellata sul resto della gamma Seat. Da non dimenticare Altea e Alte XL, quella a cui sono appoggiato. La gamma di Altea parte da 13.190 euro. Anche questa vettura viene offerta con il pacchetto Copa. Alle spalle di Rosi c'è Exeo, quindi Exeo che viene offerta in versione sia sedan che station wagon. La versione sedan ha 18.990 euro, una versione completa già di tutto. E con soli 1.000 euro in più si riesce ad avere la versione station wagon, che è quella qui presentata. Importante su Exeo è ricordare il fatto che oggi è in promozione la versione col cambio automatico multitronic allo stesso prezzo della versione col cambio manuale. Bella vettura, direi senz'altro di andare a vederla e a provare presso i concessionari appunto Seat di Lombardia e Piemonte. Ed ora parliamo anche del monovolume, perché bisogna ancora di più spazio? Assolutamente sì, quindi andiamo a parlare a questo punto di Alhambra, la grande monovolume di casa Seat. Dal grande spazio interno fino a sette posti, il claim di campagna era tecnologia da vivere, è tecnologia da vivere. A tutti gli effetti questa è un'auto dai grandi contenuti tecnologici. Su tutta la gamma abbiamo il cambio DSG, abbiamo lo start and stop. Oggi, grande novità, c'è il 4x4, quindi versione 4 ruote motrici disponibile da poco. Soprattutto questa vettura viene offerta a partire da 28.490 euro, quindi un prezzo molto interessante. E fino al 30 settembre abbiamo un'altra grande promozione che i concessionari Seat di Piemonte e Lombardia fanno al mercato, che è quella di offrire questa vettura con il cambio DSG al prezzo del cambio manuale. Quindi approfittatene, ovviamente anche in questo caso, due anni di estensione di garanzia aggiuntiva e formule finanziarie adatte ad ogni tipo di clientela. Rosy, a questo punto non mi resta che ringraziarti. Grazie a te, naturalmente. Grazie a tutti i miei amici a casa e prima di salutarli, ricordare loro un appuntamento importante. Il Porte Aperte è di sabato 24 e domenica 25, Porte Aperte Seat, quindi tutti i concessionari di Piemonte e Lombardia vi aspettano per ovviamente proporvi le fantastiche offerte promozionali di cui abbiamo parlato oggi. Un saluto da parte mia. Grazie, ciao.